Allora, abbiamo detto anche al regista, straordinaria la tua interpretazione, non si riesce mai... Io, grazie. No, assolutamente, non si riesce mai a capire, Manuel Arcuri, il carattere che ha. Perché? Perché tu impersonifici ovviamente i personaggi che vengono dati a te e li fai tuoi, ci giochi, ci scherzi, ci metti il tuo, quindi non si riesce mai a vedere il tuo carattere, quindi straordinario. Ed è stato anche bello ovviamente vederti proprio perché si nota il grande divertimento. Io vi ringrazio, dopo un'introduzione del genere ho poco da dire, bastano queste parole, grazie. Ma io mi sono molto divertita a interpretare questo personaggio, tra l'altro giocavo in casa perché comunque dovevo fare una romanaccia. Sì, un po' coatta, un po' volgare, però è divertente perché nella sua ignoranza lei spesso si sbaglia con i termini, non conosce l'inglese. È stato divertente il fatto che ho potuto giocare con Lori, ecco, dopo tanti ruoli drammatici che ho interpretato fino ad adesso, negli ultimi anni, dare leggerezza al mio personaggio è stato fantastico. Allora, un motivo per ovviamente venire a vedere questo film, banale, ma è una domanda che magari tante persone aspettano. Dice, ma ha ragione Emanuela, ci vado. Intanto è un film molto realistico, quindi trattiamo in chiave ironica, divertente, un problema sociale che esiste, che c'è, mafia capitale, e tutto quello che è le spinte, gli appaggi politici, gli aiuti, tra virgolette, quindi non è un film che si allontana molto dalla realtà, anzi, ma poi è tutto, e poi vi divertite, e poi è divertente, è tutto molto divertente, quindi vedetelo perché secondo me non ve ne pentirete. Grazie. A voi. Grazie. A voi.